Un guasso al sistema informatico di Lufthansa ha paralizzato i voli della più grande compagnia tedesca. I sistemi per l'imbarco non operativi dalla mattina hanno interessato in particolare gli scali di Monaco e Francoforte. Migliaia i voli che hanno subito ritardi o cancellazioni, blocco totale di quelli nazionali, con il personale di terra della compagnia aerea che ha dirottato le persone prenotate a soluzioni alternative. Problemi anche per i voli della compagnia satellite Euro Wings. Nessun problema invece per i maggiori hub aeroportuali di Milano, Roma e Napoli.